Due sono gli auspici, il primo che quel disegno di legge per la rubricazione del ponte come monumento nazionale che l'onorevole Racchella ha presentato la Camera, siccome va comunque convalidata anche al Senato possa essere unificata con precedenti proposte che sono state fatte da altre forze politiche per dare un segnale molto forte che la volontà di farne un monumento nazionale non ha colore politico non è di un governo che poi passa ma è un'esigenza di questa comunità e della nazione l'altra è che il progetto di restauro, uno dei più ambiziosi e più importanti degli ultimi decenni ugualmente venga portato avanti con almeno il stesso impegno che ha avuto la mia amministrazione